Musica Ciao a tutti ragazzi bentornati da Trombone E oggi siamo su Amnesia Crayoni Part 1 a quanto pare Allora la part 2 vi pronuncio che non riesco a trovarla Quindi per adesso facciamo la part 1 Nel caso in cui riesco a trovare la part 2 Una volta finita la part 1 farò anche la part 2 Se no purtroppo anche qui la sfiga mi perseguita Dovrò lasciare a metà Comunque perché giochiamo Giochiamo ad Amnesia Anche se questa a quanto pare non è proprio Amnesia Cioè è una moda però Vabbè sa stare Visto che non posso ridarvi a Oni O almeno non finché vi riesco a ritrovare un salvataggio O qualcuno vi piace al salvataggio Siccome non posso riprendere a Oni come ho già spiegato parecchie volte Ho pensato di provare a fare questo Che mi avete consigliato voi Mi hanno consigliato anche altri Si chiama Crayoni Ed è praticamente il riadattamento di Oni In stile Amnesia Quindi ragazzi Cry plays Amnesia by my cheek Bello Quindi ragazzi teoricamente dovremmo giocare ad Oni in Amnesia Più o meno è una cosa sì Più o meno la cosa dovrebbe essere così Oh chiusa Anche i suoni di Oni ci sono LOL Si possono Guardate come si aprono le porte Proprio come Oni Vabbè insomma è un Oni E un litro di Amnesia insomma Bella Allora qui abbiamo un tavolo Abbiamo... Ah il piattino rotto mi ricordo Sì Abbiamo un armadietto con Lauda daunum E poi nient'altro direi Se non sbaglio Ok Prendiamo un po' di cassette Niente Accidenti Niente 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 Sesta Pac Cavati Niente 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 Che strano Niente Niente Aspetta fammi dominare Niente Ok Un bambolino Bambolino Sorry Poor party rocking Ehm Oh 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 L'esperienza Ok Ho trovato che cosa là Library key First floor Ah è vero ragazzi Mi andava nella libreria Oh che cazzo Oh porca Puntana No Oh oh Non era così No Lì la Orni Trovai la chiave Della libreria Andavi nella libreria E compariva lui Ma non Oh cazzo No Non mi dite che Aspetta No Che figo È un genio Chi l'ha inventato Quindi ci sono anche I tasti della luce Figata Figata Comunque Hanno detto che la libreria Era al primo piano Quindi Aspetta L'alberia no Era al piano terra Se non sbaglio Sup bro Era al piano terra La libreria Se non Ah qui si va su Ho una lucina Eh si On man Oh 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 That's the way No Oh no 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 Ok Ehi Johnny No no Quello è il magneco stupratore Ok Però Johnny E' fermo lì Non è esattamente uguale a quello di Aoni No Anche perché comunque sarebbe stato Difficile Farlo allo stesso modo Ok Dobbiamo scartare Johnny Non sto prendermi Johnny Oh no Oh cazzo No 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 We are fucked Dov'è? Non c'è Johnny Ma chi vuoi prendere in giro? Ma lol Entra Oh ho la chiave Giustamente E cosa? Mi prendi per il culo Oddio Johnny Ma non c'è nessuno Cosa parte la musica? Allora La Cosa? La chiave dove è finita? Sono un deficiente Sono un deficiente Comunque non mi sta inseguendo il mostro Era qui Lo sapevo Ehi Oh no No Prendi la chiave deficiente Dove va? Cazzo Perché io sono un coglione? Io lo vedo andare di là E dico Dovei fregarmi Sennò mi vado a curiosare Come un deficiente Per andare a vedere E poi mi uccide Questo è quello che succede A fare i coglioni Allora Attenzione Perché Cioè Tu mi hai salvato Quello che ho fatto fino adesso È vero? No Perché mi dispiacerebbe molto Ricominciare Bedroom key Perfetto Terzo Terzo piano Ah è vero Sì Dobbiamo andare al terzo piano Cazzo Ehi Ok le scale sono di là Johnny Non venire fuori adesso Johnny Ok Questo è il terzo piano Ragazzi Teoricamente Forse questa è la bedroom No Veo io Aspetta Una lucina Ci può attivare Ehi Ok Johnny Sembra non esserci Perché Ho usato la pozione Non lo so Lucina Lucina Che quella Fa sempre comodo Bello Allora Abbiamo Cassetto Vuoto Non c'è niente Non c'è niente Fammi novitare Non c'è niente Ahà Un altro cassetto Abbiamo i cassettini Abbiamo i cassettini In attesa Di Gianni No Cioè L'armadio Però Cosa me ne faccio Di una Aspetta Me lo ricordavo I naoni Ah non vedo un cazzo È vero Girati Girati È vero che questa La stanza è chiusa Oh cazzo Cosa? Ma me stai a pigliare Il culo So E ma come si fa? Come si fa? E Allora Valutiamo la situazione In sé la mod Non è fatta male Ispirata perfettamente Da Oni Però non puoi Fare una prima parte Che dura Cinque Dico cinque minuti Forse anche meno No Vabbè ragazzi Purtroppo così è andata Non me lo immaginavo Cioè Ok che era una part uno Però diciamo Ma è un po' più lunga No Cinque minuti Thank you Quindi Ci vedremo con la parte due Comunque state tranquilli E Che di Ciao Anzi Siamo stati tranquilli Niente Perché se non trovo la parte due Sono cazzi amari Comunque ragazzi La tua amore è tutto Alla prossima Ciao ragazzi